ciao ragazzi bentrovati a tutti quanti oggi un video ghiacchiericcio visto a trigger vi mostrerò quello che ho fatto l'altro giorno o meglio sono entrato in un negozio e ho preso qualcosa che riguarda halloween ho preso un po' a caso e ve lo volevo mostrare quello che ho comprato, alcuni trigger, alcuni oggetti non li ho manco scartati lo farò adesso in live con voi, cioè scusatemi in video con voi allora vi mostro il primo oggetto carissimo a tema halloween ho trovato questa rosa luna si era presa la rosa con l'occhio qui a me è piaciuta la rosa perché è nera fa molto halloween poi dopo nel prenderla perché appunto era posizionata così sul vaso nel vaso nel prenderla ho notato che c'era l'occhio quindi questo particolare che fa ancora più aloe come sapete a me il trigger della rosa piace quindi non potevo non prendere questa bellissima rosa nera a tema ci sono i fantasmi andiamo avanti con gli altri oggetti quindi la poso qui di fianco ho trovato poi questa la chiave inglese horror la poso qui di fianco sapete cosa ho pensato quando ho visto questa chiave? vabbè a parte lo scontatissimo tapping che ho fatto anche lì in negozio infatti la gente mi guardava male perché io l'ho presa in mano e facevo così chissà cosa avranno pensato chissà cosa avranno pensato ma però me lo frega niente siccome è sporca di acqua fa tanto tema halloween ho detto perché non farci un face adjusting quindi dove vi aggiusto un po' le orecchie il naso tiro 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 la bocca le orecchie le orecchie le orecchie sollevandole tiro 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 un altro orecchie tiro sicuramente su tik tok porto qualche video qualcosa visibile per ora volevo vedere un comic qua invece non so se porterò qualcosa e soprattutto cosa porterò e vi ho mostrato questo e vi ho mostrato questo poi pezzo forte la lapide che ora vado ad aprire così Grazie. Bellissima. Bellissima. E' impollissima. Che ci farò e farò venire in mente qualcosa. Poi vediamo altri oggetti. Pagato letteralmente 2 euro pochissimo. Allora. Il fatto che ci sia quel velo rosso. Non mi convince tanto. Anche perchè come si può vedere da qui. E' corto. Quindi sicuramente. A me starà male. Il fatto che ci sia quel velo rosso. Per la modica cifra per cui l'ho pagato. Ho detto. A me interessa il cerchietto rosso con le orecchiette da diavoletta. Se non mi dovesse piacere il velo lo tolgo. Andiamo a vederlo insieme. Allora. Allora. Il cerchietto si presenta così. Già vediamo che da una parte è più lungo. Vedo l'altra è più corto. E' anche tagliato male. Manco se non lo sapessi. Però chi se ne frega. Io vedo se non mi piace. Lo taglio. Questo lo voglio mettere durante qualche. live su tiktok su twitch. Allora. Il velo. A me. Non so come mi sta. Mi guardo un po' qui. Però. Guardandomi dai vetri della finestra. Vedo una cosa lunga qui. Una cosa corta qui. Però vabbè. L'ho preso comunque. Ripeto. Perché mi piaceva il rosso del cerchietto. E. Le orecchiette da diavolo. Ci sta. Per queste serate. Live. Halloween. Ancora non lo sto indossando. C'è l'una che mi sta guardando. Malissimo. Che c'è l'una. Secondo me. Spaventata dal rosso. Perché ha gli occhi spalancati. Amore. Lo vuoi tu questo qui? Io di solito ho un altro cerchietto con le orecchiette da gatti. Live. Ma quello. Ormai lo porto spesso. Quindi non sa di Halloween. Adesso invece si. Vedremo poi. Se toglierò o meno. Il velo. C'è anche. C'è anche tipo. Della colla. Quello. Bello. Che ha questo. Piumaggio. Non avevo. Non avevo fatto caso. Avesse. In realtà. Bello. Quindi proprio. Un angelo. Andiamo a vedere se c'è dell'altro. O hag. Gli occhi. Ho comprato poi. Questa tela. Che sarebbe. Un'arangiatela. Io la cercavo. Nera. Ma nera. Non c'era. C'erano solo nei colori. Grigio. E' bianco, io la volevo prendere nera non so perchè però l'ho presa grigia, bianca non mi piaceva Allora questa letteralmente dovrebbe essere una ragnatela anche se ok a me sapeva più di una sciarpa comunque guardate dà proprio l'idea di una ragnatela Io l'ho presa, non so se la utilizzerò, che devo vedere un attimino come appenderla però come potete vedere è abbastanza lunga, grande Questa ci va praticamente a pesa da qualche parte, vedremo cosa ne potrò fare E poi ragazzi basta, credo di non aver preso più nulla, ho preso altre cose, altre trigger però non c'entrano niente con Halloween Io vi volevo mostrare questi oggettini qui che ho preso, che porterò qualche tiktok, forse anche integrerò qualcosa qui su youtube E niente ve li volevo far vedere un po' di cavolate triggerose che ho preso Sullo sfondo invece come potete vedere già preso l'anno scorso ho queste decorazioni qui che ho preso da Lidl l'anno scorso Devo dire che i palloni dopo un anno sono integri Ormoni, non so come ti chiamano Ho preso il fantasma, la zucca e la muerte Questo mi piace veramente un sacco ragazzi, questo qui, la muerte Questo mi piace veramente Poi ho preso anche questa, la zucca E quelle zucchette invece là di fianco che vedete le avevo già da qualche anno Niente ragazzi questo era un video così per tenervi compagnia a chiacchiericcio E farvi vedere un po' qualche oggettino a tema A tema Halloween Ah poi di qua Ho preso questa ragazzi, me l'ho dimenticata La ragniatela Questa qui Non è altro che una Si mette sul tavolo questa Non si appende Io l'ho appesa perché L'ho resa L'ho ambientata Quello che il mio Sfondo Sfondo SMR Ecco però A tema Halloween Però questa tipo Che ne so un centrotavola Un sottopiato Qualcosa del genere L'ho presa perché Mi dava delle vibes Del tipo Ok Metti che faccio qualche maschera Qualche roleplay Dove Faccio la maschera a qualcuno Gli metto La maschera di ragno In faccia Per Farlo sembrare Ancora più Bello in viso Sapete le maschere Di skin care Che si vanno a fare sul viso Ecco questa mi dava le vibes Di una skin care A base di ragno Per Halloween Magari ci faccio qualche tiktok Poi vedremo Questo ragazzi Era un video Chiacchiericcia Dove vi ho fatto vedere Come vi ho detto prima Un po' di cosine che ho preso Perché ogni tanto Fa bene fare questi video Un po' No? Sempre SMR Rilassanti Dove Vi racconto un po' Quello che combino Perché effettivamente Io non porto mai video Sul canale Di spesa Che faccio Perché tanti fanno video Svuota la spesa Svuota quello Svuota quell'altro E quindi vanno un po' più Sul personale Io invece mi mantengo Sempre un po' più Sul ASMR Basta Non vado mai sul Tipo Ragazzi ho comprato questo Ho preso quello Mantenermi un po' più leggera Non lo faccio quasi mai E ho detto Oggi devo fare questo video Che può sembrare banalissimo Però allo stesso tempo Però allo stesso tempo Allora ho messo le cuffie Le avevo tolte Perché è un po' un mal d'orecchio Perché sento dei rumori fuori Volevo fare questo video Così un po' più Leggero Perché in effetti Un video così Semplici Non ne porto mai Potevo tenere i trigger Comunque Nascosti E farvi vedere Proprio per portare La vera novità Direttamente Non roleplay su TikTok Su Youtube Però ho detto Chi se ne frega Li faccio vedere ugualmente Poi magari dopo Ci faccio qualche video Spero di avere tempo Grazie di cuore Per essere stati con me Scusate se qualche volta In video c'è qualche rumore Molesto Però purtroppo Ragazzi Io devo registrare di giorno E nel pomeriggio presto E a volte capita che Si sentano macchine Musica O gente a parlare Grazie Per essere stati con me Ci rivediamo In un prossimo video Ragazzi Vi mando un abbraccio Halloweeniano Pazzesco E ci vediamo sicuramente Probabilmente Con qualche video Tema Halloween Qui sul canale A presto ragazzi Ciao